Sì, dispiaciuto per la partita perché sicuramente meritavamo di più e ce ne andiamo delusi. Se lo dicono loro forse hanno ragione, forse no. Oggi ci è capitato un episodio brutto, sicuramente è colpa nostra ma ci riprenderemo. Quindi mantieni l'ottimismo, devi mantenerlo giusto? Per forza, se no è meglio andarsene, quindi dobbiamo restare positivi. Forse mancasse di concentrazione, alla fine ci è mancato quello, mancavano 20 secondi e ci hanno fatto il gol. Ce ne andiamo delusi e ormai bisogna pensare alla prossima partita. Che ti posso dire? Hanno ragione, loro contestano perché non facciamo i risultati che loro aspettano. Ma la verità è che noi diamo tutto. Poi ci capita partite come queste, ma non so che dirti perché alla fine noi diamo tutto. La squadra si impegna troppo e la verità è che gli allenamenti che facciamo e tutto quello che facciamo durante la settimana non viene come vogliamo in fine settimana, ma ti posso assicurare che noi facciamo di tutto per raggiungere gli obiettivi che vogliamo. Come ti dicevo prima, dobbiamo restare positivi. Ancora non è finita. È una botta difficile da affrontare, ma penso che ancora manca tanto. Dobbiamo restare positivi e ricominciare. Grazie.